Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, questa sera vi racconto una storia. Vi racconto la storia di due autrici che il primo maggio scorso, 2021, pubblicano su Facebook, su una rivista di recensioni che si intitola SF Gate, la loro recensione su Biancaneve a Disneyland. Recensiscono l'attrazione di Biancaneve presso il parco Disneyland e in questa recensione scrivono che quel bacio dato dal principe azzurro non lo si può considerare un vero bacio d'amore perché vi amore solo quando c'è coscienza, consapevolezza e quando si è consensienti. Ma poi terminano quell'articolo, quella recensione dicendo che nonostante non sia un vero amore, quello è il mondo delle fiabe e in quel mondo magico di luci tutto sommato è concesso. Ebbene, quell'articolo nel giro di un giorno non raccoglie che 5.000, 6.000 like, 6.000 pollici su Facebook. Però quell'articolo viene notato da altre testate giornalistiche internazionali. In modo particolare in Italia Luffington Post e Repubblica rilanciano quell'articolo su Facebook fatto da due autrici che hanno detto la loro opinione, che hanno scritto una loro opinione sulla trazione Biancaneve a Disneyland. Rilanciano quell'articolo intitolandolo Biancaneve censurata. Il bacio del principe azzurro è un bacio senza consenso, pertanto si tratta di un bacio rubato, si tratta di un amore rubato. Dunque Disneyland va censurata, no, l'America censura Biancaneve. L'articolo di quelle due ragazze che su due miliardi e mezzo di iscritti a Facebook aveva ottenuto 6.000 mi piace, nel giro di poche ore comincia a collezionare centinaia di migliaia di like e poi di tweet, di retweet e di meme su Instagram, di articoli su Facebook, di richiami sulle pagine del Corriere, del su 24 ore, del Messaggero, del Mattino, Sky, Rai e tutti cominciano a parlare di Biancaneve censurata. Il principe azzurro ha rubato l'amore, Manigoldo, bisogna censurare, perché altrimenti diventa diseducativa. Quella favola è diseducativa, quella favola è assolutamente sbagliata per i nostri figli e per le nostre figlie, va censurata. Ma l'America non censura Biancaneve. Così come non c'è nessuna censura in atto ad Oxford, di Mozart, di Mozart, non c'è nessuna censura in atto di Omero, di Platone nelle università americane. Questi retweet, queste condivisioni, partono da opinioni di singole persone e nel giro di poco tempo diventano pietre lapidarie che significano cancel culture. Ecco, stanno cancellando la nostra cultura. Dove finiremo? Ma siamo cresciute belle, brave, sane, belli, bravi, sani, con Biancaneve, con la bella addormentata nel bosco, con Cenerentro. Sì, va bene, un po' di maschilismo, ma non esageriamo. Ci volete rovinare tutti i sogni, rompere tutti i sogni? Che terribili questi censori che in nome del politicamente corretto ci distruggono un passato fatto di sogni, fatto di coccole, fatto di viaggi della fantasia. E prima Dumbo, e poi Peter Pan, adesso Biancaneve. Dove andremo a finire? Dove andremo a finire? Andremo a finire molto male perché siamo stupidi, perché crediamo tutto, perché queste cose non sono vere. Non sono vere. Non c'è nessuna cancellazione di Biancaneve, non c'è nessuna censura di Biancaneve. C'è una discussione al massimo sollevata da alcune persone, da alcuni ambienti. Si dibatte, si discute di un qualcosa di molto importante, che ha determinato migliaia di anni di predominio maschile, predominio europeo, predominio dell'uomo bianco, di predominio di alcune culture sulle altre. Si discute. Ma questa ossessione rispetto a una cultural culture che non c'è, questa ossessione verso il politicamente corretto, che annullerebbe i soldi, ci cancellerebbe il passato bello, aureo in cui viviamo. Ebbene, questa ossessione ha due finalità. La prima finalità è ovviamente commerciale, vendere, vendere, vendere. Fa profitto. Clicchiamo, clicchiamo, clicchiamo su questi articoli, dunque pubblicità, giga, rimandi altre pagine, consumiamo. Dunque sono un prodotto, sono un prodotto che fa vendere, che si vende e che fa vendere. Si vende quel prodotto, fa vendere pubblicità, noi navighiamo, twittiamo, rilanciamo, ripostiamo e discutiamo del nulla, ma consumiamo. E dunque portiamo un dibattito serio proprio nel mercato delle vacche, portiamo un dibattito importante sui temi della cultura, sui temi dell'integrazione, sul tema delle donne, della cultura di genere, sul tema della cultura e anche di coloro divinti e sconfitti o marginalizzati nella storia. Ve ne portiamo un dibattito serio ad essere un elemento da vendere, essere un prodotto da consumare rapidamente, anche in maniera ingannevole. Creiamo delle fake news perché rendono e appunto è così andiamo a cliccare, a rimandare, a far crescere la bolla. Ma c'è un secondo ovviamente obiettivo, un secondo obiettivo veramente disgustoso, disonesto. Queste falsificazioni servono per delegittimare appunto una battaglia sacrosanta, la battaglia di chi chiede che la storia vada raccontata tutta e la storia vada anche in parte riletta e rivista, alla luce di nuove sensibilità. Per continuo a ripeterlo, non si tratta di cancellare il passato, di umiliare il passato e negarlo in nome di un politicamente corretto. Significa capire che però c'è un divenire della storia, della coscienza, le sensibilità e la storia del passato è spesso la storia di un uomo bianco, del cristiano, del maschio, del conquistatore. Lo so che mettere in discussione migliaia di anni di imperatori, faraoni, papi, re, di poeti maschi, letterati maschi, filosofi maschi, di musicisti maschi ci disorienta perché ci sembra che tutto quello dovesse essere normale per sempre, dovesse essere la normalità per sempre, fosse immutabile, invece va messo in discussione che non vuol dire cancellarlo, vuol dire relativizzarlo, confrontarlo, ricalibrarlo. Ci va bene altrimenti pensare che la cultura sia solo questa, sia la cultura del maschio bianco, che sia la cultura dell'occidentale, che sia la cultura del cristiano oppure ci confrontiamo con altre culture. Questa ossessione per la cancellazione del passato è il tipico grido di un maschio che ha paura che qualcuno faccia a lui quello che lui ha fatto spesso nella storia. Ripeto, nessuno vuole cancellare la cultura. Quando si parla di cancel culture si parla magari di ripensare che alcune vie intitolate a mercanti di schiavi, intitolate magari a guerra fondai, vanno meno discusse, che alcune statue rispetto a persone che sono macchiate di crimini di guerra, che sono macchiate di violenze, di genere, alcune statue appunto verso anche primi ministri che sono macchiate di violenze, macchiate di razzismo, vanno ridiscusse, magari vanno messe in un museo, comunque ne parliamo, non significa cancellare, anche perché, ripeto, non è stato cancellato né Mozart, né Omero, né Platone, neanche Biancaneve, si discute. Invece alcuni si arroccano dietro l'idea che tutto questo sia indiscutibile, non vada modificato, non aprevo neanche la discussione, è troppo comodo non aprire la discussione. Ma dove siamo arrivati? Adesso cos'era? Ero un porco maniaco, il principe azzurro, cos'è stuprata, Biancaneve, ma no, non andate a toccare questo nostro passato che è tutto bello. Ma tra l'altro siamo sicuri che non si possa operare una critica al mondo Disney, non solo una critica cinematografica, ma una critica culturale. Magari potremmo anche pensare che de-desnizzare le culture dei nostri giovani in Occidente sia anche positivo, non lo so, parliamone. Ci sono tanti modi per raccontare le storie, le emozioni, i rapporti genitori, i figli, uomo ambiente. Ci piacciono quelli di Disney? La Disney ha monopolizzato la crescita culturale valoriale di milioni e milioni di bambini e bambini nel corso del novecento, del secondo novecento e ancora oggi. Ci va bene così? Sì, va bene. O possiamo anche discutere. Magari c'è un mondo al di là di Disney, magari quegli stereotipi di principesse, di eroi, o quegli stereotipi adesso di eroine. Non ci vanno bene, possiamo immaginarne altre, contaminare quella cultura asiatica, africana, dell'America latina, quella europea, capire che ci sono tanti modi per raccontare delle storie. Non ce n'è solo uno. Certo è appagante quel ritmo, quella velocità, quella potenza, però uno può anche dire che palle, mi sono stancato. Possiamo dire che gli uomini hanno raccontato che gli dèi erano maschili. Zeus è il più potente di un maschio. Ad è un maschio, Poseidone è un maschio, maschio, tutti gli eroi sono maschi, 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 maschi. Gli dèi sono al maschile. Si può mettere in discussione poiché è sempre, questo così sempre dovrà essere. Non vuol dire cancellare, cioè aboliamo la storia di Zeus, però raccontiamola tutta questa vicenda. Dietro c'è il dominio del maschile, c'è il negare il femminile. E adesso però vogliamo rovesciare, vogliamo parlare di eroine donne, perché il mondo cambia, perché il mondo cambia. Noi i supereroi sono al femminile, perché oggi molte storie sono al femminile, perché molti protagonisti di romanzi, di avventure, di film d'avventure, di fantasy, sono donne. Perché? Perché c'è un'altra metà del cielo che non è mai stata raccontata, che ora raccontiamo più o meno bene, come si è raccontato più o meno male il mondo dei maschi. Adesso siamo arrivati, Capitano America nero. Perché? Perché? Che mondo è? Perché? Perché Capitano America deve essere bianco? Perché i bianchi sono i fondatori dell'America che però è stata anche poi portata avanti dal lavoro schiavista. Non possiamo raccontare che Capitano America oggi sia un nero. La Marvel lo fa e lo fa perché è politicamente corretto, ma perché è anche bello, non è politicamente corretto. Significa che cambiare, riconoscere che c'è anche un'altra storia, che ci sono altri popoli, altre nye, altre culture. Adesso si parla di farlo gay. Non è più perché? Perché? Perché un supereroi di essere muscoloso, bianco, occhi azzurri e capelli biondi. E l'esa maestà immaginare Capitano America gay perché è l'uomo. Allora vedete, lì è normale, non è mai l'esa maestà nei confronti delle donne, dei gay, delle lesbiche o degli afroamericani. Va bene? Non è mai, non è mai. Possiamo farlo per tutto. La storia l'ha raccontato i colonizzatori, i nonni colonizzati, i nordisti e non i sudisti. Invece il bello, i nordisti è un po' di tutto il mondo ovviamente, invece il bello è non cancel culture, che non c'è, ripeto, sono casi estremi, ma il bello è revisionare, ridiscutire, capire, ne avevo già parlato. Non significa dire che Indro Montanelli non fosse, non sia stato un giornalista importante. Significa che anche quando gli anni erano passati non ha mai chiesto scusa per aver sposato una bambina, per aver rubato sesso, verginità, la vita ad una bambina di 12 anni. Questo significa discutere, perché altrimenti neghiamo e sbandierare la cancel culture come chiaramente una minaccia. È proprio un sintomo di disonestà intellettuale perché si vuole impedire che altre culture alzino la testa. Siete sempre artischiavi, sempre donne, rimanete lì. A voi non è data la possibilità di alzare e rimettere in discussione. Continuate a ascoltare le nostre storie, come le abbiamo raccontate noi, gli eroi che abbiamo avuto noi, le favole che abbiamo raccontato noi. Rimangono quelle, non toccatele perché è il nostro passato, i valori, le tradizioni giuste non sono mai modificabili, invece no, sono anche modificabili. Anzi, si porta rispetto anche al passato, rileggendolo, reinterpretandolo, rendendolo più relativo. Dunque, la storia di Biancaneve è una storia sintomatica dei tempi che noi viviamo. L'America non sta cancellando Biancaneve, nessuno sta dicendo che Principe Azzurro sia uno stupratore, che sia un ladro di baci. Stiamo parlando che sotto questo cielo è bello discutere, dibattere di culture, di diritti ed estendere i diritti delle persone non è mai un passaggio all'indietro nella storia dell'umanità, è un passaggio in avanti. Più ci sono diritti, più c'è insensibilità, più il mondo migliora. Rimpiangere il mondo passato degli uomini duri e rimpiangere un mondo in cui molte persone erano tristi. Noi ci immaginiamo che Cederentola fosse felice, perché la Disney ci vuole raccontare così un sogno dato alle ragazzine che in realtà devono stare lì a casa, fare un po' di sguattere e poi arriverà il Principe Azzurro. Quel mondo non c'è più. Criticare Disney e cosa ha prodotto non vuol dire cancellarla, non vuol dire eliminare i film, vuol dire relativizzare, vuol dire capire cosa c'era dietro la produzione di Cenerentola, della Berlata del Bosco. Capire non è cancellare, capire non è cancellare, eppure tutto viene appiattito sulla console culture perché fa comodo così. I barbari stanno cancellando la nostra grande civiltà sono appunto i nuovi turi, mamma le turchi vogliono distruggere, sono gli invasori, i barbari, gli alieni. Bene, non accade tutto questo. Ma le culture cambiano, non c'è nessuno che vuole genderizzare, gayzzare, lesbizzare, negrizzare. La storia della cultura è cambiare, non c'è così, ma si cambia. Anzi vi dico una cosa, potrebbe un domani, con l'evolversi dell'umanità e della scienza, potrebbe giungere il mondo dei robot senzienti, intelligenti ed emozionali. A quel punto vi dico una cosa, i robot chiederanno di rileggere molto della storia, della cultura, vorranno intervenire anche loro, vorranno robotizzare la cultura, cioè vorranno dire che oltre a quella degli esseri umani c'è quella dei robot, così come oggi le donne, i neri e tante altre minoranze, le classi sociali sconfitte, i colonizzati, vogliono dire che non c'è soltanto la storia raccontata dai giolitti, dai Churchill, dal nord del mondo, dai Washington, ma c'è anche la storia di chi ha subito violenze, sconfitte e umiliazioni. Questo non è cancellare la cultura, anzi è rinvigorirla e renderla più fertile per poter costruire un mondo migliore.